Stefano De Martino, il percorso di un conduttore amato. Stefano De Martino è un nome di spicco nel mondo della televisione italiana. La sua carriera ha preso il via come allievo nel talent show Amici di Maria De Filippi, dove ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua personalità. Da allora ha ottenuto successi e affrontato sfide che lo hanno portato a diventare uno dei conduttori più amati della tv. La sua vita privata, in particolare la relazione con Belen Rodriguez, ha attirato l'attenzione dei media. Il matrimonio tra i due è stato celebrato con grande clamore, ma ha vissuto alti e bassi, culminando in una separazione che ha lasciato molti interrogativi. De Martino ha dichiarato che, nonostante sia stato un bel periodo, è giunto il momento di guardare avanti. In un'intervista al Corriere della Sera, De Martino ha parlato della sua esperienza con i media, sottolineando come a volte si senta distante dal pubblico. La sua risposta alle parodie e alle imitazioni dimostra la sua capacità di affrontare le situazioni con ironia, mantenendo però una certa distanza emotiva. Il conduttore cerca sempre di mantenere i piedi per terra e ricordare le sue origini. Un aspetto importante della vita De Martino è la sua paternità. Padre di Santiago ha chiarito le sue idee sull'educazione del figlio, credendo fermamente nell'importanza di insegnare il valore delle cose e il significato del lavoro. Guardando al futuro, De Martino ha rivelato di avere grandi progetti, tra cui la possibilità di condurre il Festival di Sanremo. Tuttavia, sottolinea l'importanza di costruire una carriera duratura anziché cercare il successo immediato. Con l'agente Beppe Caschetto al suo fianco, sembra pronto a affrontare il mondo dello spettacolo con saggezza.